Ciao a tutti, eccoci qua, nuovo video Bomba, telaio Crafty Carbon RR SL La sicurezza è incredibile, troppa Che dire, primo contatto montata strana L'ho montato con quello che avevo in negozio Stranissima, abbiamo fatto una Marzocchi Z1 Cascima Grip 2, per non farci mancare niente Forsella che non esiste, ma va da dio E ammortizzatore mode formula Che va da paura Insomma, prima, prima, primissima, primissima impressione è che la bici è una familiarità immediata Una sicurezza stratosferica E come ho detto l'anno scorso, quando provai la Crafty Carbon RR è pericolosissima Cazzo, va troppo forte È vero che è sicura, è vero che dà una sensazione immediata di poter fare qualsiasi cosa Ma va veramente, veramente, tanto, tanto forte Telaisticamente ha una reattività clamorosa Ed è, contro quello che pensavo, anche una bici molto giocosa Si riesce a cambiare linea, a interpretare quello che si vuole Saltare, giocare È veramente, veramente bella, 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 bella Non posso dire che questa è la miglior bici Però sicuramente è la bici, fino adesso, la più pericolosa che ho provato Ragazzi, iscrivetevi al canale Sì, siamo piccolini, un piccolo canale Fa vedere poca roba rispetto ai megacolossi Ciao a tutti e iscrivetevi, mi raccomando, ciao Eh, già che entra Secco Ho, ho Ho, ho Grazie a tutti Wow Questo Questo qua Eh scusa Stronzo e basta È più lungo 4x4 Grazie a tutti